Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Viagioni. In A15 sono scese a 4 km le code causate dal traffico intenso tra Aul e l'allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione La Spezia. Code a tratti anche in A1 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino sempre a causa del traffico intenso in direzione Firenze mentre si registrano rallentamenti tra Ilvivio con la variante del Valico e Badia in direzione Firenze e tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Infine uno sguardo alla A12 con code in uscita a Rosignano per traffico intenso e rallentamenti tra Santo Stefano di Magra e Livorno in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana Info un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!